La Lega Nord ha avuto delle conferme in queste ore che la politica economica del governo Renzi è un pieno fallimento. Perché? Le conferme innanzitutto le danno i dati economici che oramai da quando il governo è il governo del Partito Democratico sono dati economici negativi e di peggioramento continuo. Ma al di là di questo oggi esce una notizia che è quella che il Presidente del Consiglio sta reclutando vari economisti per comporre un gruppo di lavoro che farebbe a quanto si dice da supporto al governo in materia economica. Questo vuol dire, se risponde al vero questa cosa, vuol dire essenzialmente che Renzi si è reso conto che la politica economica del Partito Democratico è un fallimento per cui ha bisogno di aiuto e i dati lo dimostrano. E secondariamente, cosa ancora più grave alla quale il Presidente del Consiglio deve assolutamente risponderci, se questo gruppo di lavoro fatto da economisti diventa ufficiale, è praticamente ufficiale anche il commissariamento del Ministro dell'Economia Padoano. Grazie.